Questo è un radiometro di Crocs, ti permette di capire l'intensità delle radiazioni elettromagnetiche o, in poche parole, l'intensità della luce. Infatti è formato da un bulbo di vetro al cui interno c'è un vuoto parziale. Dentro ci sono quattro palette, le quali girano tanto veloce quanto è grande l'intensità della luce. Guardate ad esempio, sotto il sole girano velocissime. Magari qui non si capisce, ma vi assicuro che è così. Fammi sapere se vuoi sapere come funziona a livello tecnico e ci farò un video a riguardo. Ciao!